vado a vedere quando avrete giù dentro al posto stanno www.mesmerism.info 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 Sì. si sono mossi armati, sono mossi gatti dai 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 ecco qui non ha fatto in tempo a riaccendere la telecamera dopo spenda 20 metri più giù e partireva beccaccio meno male che c'era il compare che l'ha fatta adesso vediamo di ritrovarla si andava via davanti al carro non si faceva fermare nemmeno qua qua dai dai bella bravi 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 bravo a volte se lo sapevo che era lei perché eri inferocito eri, eri inferocito è partita qui porto 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 bravo bu portala portala eccola qui la prima beccaccia che annunci la prima beccaccia che annunci ecco qua qua ce l'ha fatto dannare un pochino ok bravo c'è c'è